Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi mostro queste due bellissime mascherine che mi ha gentilmente inviato Yaya Quinto. Yaya Quinto realizza queste mascherine artigianalmente e sono cose uniche fatte a mano su misura e ora ve le mostro nel dettaglio. Tutte le sue mascherine vengono spedite all'interno di queste bustine di plastica dove dietro è inserito un foglio con tutte le loro caratteristiche. Io ho scelto queste due mascherine in cui il tessuto esterno è di questa mascherina in raso mentre di questo in seta. E andiamo ad aprirle. ecco qua guardate che bene E andiamo ad aprirle. Come vi ho anticipato precedentemente, il tessuto esterno delle mascherine che si è più scelto, uno in raso e l'altro in seta. Mentre il tessuto a contatto con la pelle è in poliettere, 100% idrorepellente e antibatterico. Il nasello è interamente in materiale plastico senza nickel. Dopo ogni utilizzo prolungato si consiglia il lavaggio a mano della mascherina in acqua calda e detergente delicato. L'asciugatura deve essere all'aria e stirare per mantenere la forma solo sulla parte colorata. Inoltre si garantisce l'integrità e la funzionalità per un massimo di 10 lavaggi e non è un dispositivo medico. Vi consiglio davvero di acquistare queste mascherine perché sono veramente bellissime, comodissime e poi come possiamo vedere il materiale è davvero morbidissimo. oltre che ad essere di tantissime fantasie. Infatti Yaya Quinto ha tantissimi materiali e tantissime fantasie con cui possiamo personalizzare la nostra mascherina. Potete ordinare le mascherine direttamente dalla pagina Instagram di Yaya. Il suo nome su Instagram è yaya-41275 Vi lascio tutti i suoi contatti anche qua sotto nei commenti così potete tranquillamente vedere i suoi lavori e ordinatevi. Se no potete contattarla anche direttamente su WhatsApp. Insieme a queste due stupende mascherine Yaya mi ha spedito anche questo bigliettino. Ho scritto Grazie di aver creduto nel mio sogno Ringrazio ancora Yaya per questa bellissima opportunità e sono davvero felice di avervi mostrato questi due fantastici prodotti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!